Due slavine nella notte sono bastate a bloccare la provinciale 106 per Campitello Matese. L'allarme è scattato alle tre dopo che migliaia di metri cubi di neve si sono riversati sull'asfalto tagliando in due la strada di collegamento con la località scistica molisana. La provincia di Campobasso ha avvisato subito la prefettura, protezione civile e carabinieri e ha attivato i mezzi di emergenza. Gli uomini dell'ente della polizia provinciale hanno raggiunto subito il posto. Turbine e scavatori sono entrati in azione prestissimo per liberare l'unica via di accesso a Campitello Matese. La strada è stata chiusa poco dopo lo svincolo di San Massimo. Molti turisti hanno dovuto fare marcia indietro. A causare le slavine le temperature salite nelle ultime ore di qualche grado e la pioggia dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. I tecnici della provincia e il corpo forestale stanno monitorando la situazione ma il rischio slavine lungo la provinciale 106 non è ancora scongiurato. L'accesso alla località turistica è stato garantito fino a metà mattinata solo ai residenti e ai lavoratori della zona mentre la strada è stata riaperta più tardi anche ai turisti. Il presidente della provincia Rosario De Matteis ha seguito costantemente le operazioni e ha ringraziato tutto il personale per l'ottimo lavoro.